L'Italia delle regioni, secondo video. Qui parleremo dei fiumi, dei laghi e dei mari italiani. Fiumi numerosi ma brevi. I numerosi fiumi italiani sono in genere brevi a causa della vicinanza delle montagne alla costa. Vediamo qui la mappa dei fiumi e dei laghi dell'Italia. Il fiume più lungo è il Po, 652 km ed è questo qui. Nasce dalle Alpi, attraversa l'intera pianura padana dove raccoglie le acque di numerosi affluenti e sfocia nel mare Adriatico tra Veneto ed Emilia-Romagna, con un'ampia foce a delta. Più a est, altri fiumi alpini importanti che sfociano direttamente nel mare Adriatico sono l'Adige, il Brenta, il Piave, il Tagliamento e l'Isonzo. Sono qui. I fiumi appenninici più lunghi, tra cui Tevere e Arno, sfociano nel mar Tirreno, per la maggior distanza degli appennini dal mare. I fiumi appenninici sono questi. Laghi concentrati lungo le Alpi. L'Italia è ricca di laghi che si trovano per la maggior parte lungo le Alpi, vale a dire in questa regione qui. Il più grande è il lago di Garda, al confine tra Lombardia, Veneto e Trentino. Eccolo qui. Poi il lago Maggiore, il lago di Como, il lago di Iseo, il lago d'Orta e il lago di Lugana, che è tra l'Italia e la Svizzera. Sono tutti quei laghi che sono compresi nel riquadro, nel rettangolino azzurro che vi ho evidenziato prima. Tutti questi laghi sono di origine glaciale, pertanto hanno una classica forma allungata. Al centro e al sud dell'Italia i laghi sono più rari e quasi tutti di origine vulcanica. Come il lago di Bolsena nel Lazio, questo qui, loro hanno una classica forma rotonda. L'unico lago grande dell'Italia peninsulare è il lago Trasimeno in Umbria, qui. Passiamo al mare. L'Italia è una terra circondata dal mare. Il mar Mediterraneo viene chiamato con nomi diversi sui vari lati dell'Italia. Mar Ligure tra Liguria e Corsica, cioè qui. Mar Tirreno lungo la costa occidentale dell'Italia, cioè questo. Mar Ionio a sud e Mar Adriatico lungo la costa orientale dell'Italia, quindi Adriatico e Ionio. Le coste italiane sono molto estese, quasi 8.000 km, e varie, con tratti rocciosi, spiagge sabbiose, golfi e insenature. Vedete nella cartina sulla destra le coste alte rocciose sono indicate con il colore celeste, quelle basse sabbiose con il colore arancione, con il grigio quelle basse paludose. A sud ci sono due grandi penisole, la Calabria a ovest e il Salento a est. Il Salento è la parte finale della Puglia, quindi abbiamo qui la Calabria e qui il Salento. Le principali isole sono la Sardegna e la Sicilia. La Sicilia è anche la più grande del Mediterraneo, separata dal continente dallo stretto di Messina. Questa è la Sardegna e qui abbiamo la Sicilia. Ci sono numerosi arcipelaghi e isole minori, come l'arcipelago toscano, che comprende l'isola Delba, che è la terza isola italiana per estensione. Questo è l'arcipelago toscano. Poi abbiamo l'arcipelago campano, con Capri e Ischia, le Procida. Eccolo qui. A largo della Sicilia si trovano numerose isole di origine vulcanica, come le Eolie, Ustica e Pantelleria. Queste sono le Eolie. Le Pelagie, di cui fa parte Lampedusa, sono le più vicine alla costa africana. Eccole qui le Pelagie. L'unico arcipelago dell'Adriatico è formato dalle isole Tremeti, ed è questo qui vicino al Gargano.